La recessa non è che può entrare in polemica o in fazione nei confronti di l'una o in favore dell'altra, anche perché ci sono tutti i presupposti, sia da un punto di vista di gestione dell'illuminazione di una parte del Gran Sasso, ma anche per i precedenti che si sono avuti in Italia, come l'anno scorso con l'illuminazione delle tre cime di Lavarido, che sono anche patrimonio dell'UNESCO. La spra contrapposizione sorta tra Gall Gran Sasso Laga, enti locali e parco Gran Sasso Monti della Laga, ha di fatto messo la parola fine alla possibilità di illuminare di rosa il paretone del Corno Grande. A cento giorni dalla partenza del Giro d'Italia, che l'11 maggio farà tappa ai Prati di Tivo, sul sito ufficiale della corsa l'immagine simbolo scelta dal comune di Pietracamela e il monumento agli aquilotti del Gran Sasso nel Borgo Montano. L'appuntamento per portare i Prati di Tivo al centro dell'attenzione mediatica internazionale arriverà l'11 maggio, ma il referente per l'Abruzzo di RCS, Maurizio Formichetti, non nasconde le difficoltà che attanagliano la località turistica, già teatro di grandi imprese ciclistiche. Prati di Tivo, 75 vittorie di Battaglina, 2012 vittorie di Fromo, poi abbiamo una vittoria di Nibali, una vittoria di Pogaccia. In questi anni Prati di Tivo è stata l'attenzione dei media mondiali e nazionali, però ahimè devo dire che come era nel 2012, siamo oggi al 2024, ancora con le stesse condizioni. Gli alberghi sono diminuiti, la stazione scistica non parte e il Giro d'Italia dovrebbe aiutare affinché questo posto meraviglioso, perché chi arriva a Prati di Tivo resta affascinato dalle bellezze che si trova intorno, però che devo dire, il Giro d'Italia è promozione, speriamo che chi deve capire capisca.